Nelle nostre cellule il DNA è continuamente esposto a fattori che lo danneggiano. Tra tutti i tipi di lesioni, le più pericolose sono le rotture a doppio filamento, dette anche double strand breaks. Le rotture a doppio filamento sono causate dai prodotti del metabolismo cellulare ma anche da errori nella replicazione del DNA e possono avvenire anche durante fasi speciali della vita di alcune cellule come lameiosi. Alcuni composti chimici usati nella chemioterapia e le radiazioni ionizzanti della radioterapia producono tantissimi danni al DNA sia nelle cellule tumorali sia in quelle normali. Se le cellule non riescono a riparare i danni vanno incontro a morte cellulare. I sistemi di riparazione come quelli che riconoscono e riparano i danni da rotture a doppio filamento nelle cellule tumorali non funzionano correttamente come in quelle normali e possono diventare un bersaglio dell'azione di nuovi farmaci. È il caso degli inibitori PARP usati nel trattamento del tumore ovarico avanzato nelle pazienti con mutazioni nei geni BRCA1 o 2. Questi geni sono coinvolti nella riparazione. Quando uno dei geni è mutato le proteine non funzionano correttamente oppure non sono prodotti affatto e i danni si accumulano. Aumenta così per la paziente il rischio di sviluppare tumori alla mammella e all'ovaio. Nel caso del tumore ovarico nonostante la rimozione chirurgica e la chemioterapia circa il 70% delle pazienti va incontro a recidiva entro tre anni. Questa percentuale scende al 40% circa in seguito a trattamento con inibitori PARP. Gli inibitori PARP agiscono in modo specifico sulle cellule tumorali con mutazioni in BRCA1 o 2. Le cellule non sono in grado di riparare danni al DNA usando queste proteine e quindi muoiono. Nelle altre cellule del paziente invece solo una copia del gene non funziona e quindi queste cellule riparano correttamente. A giugno 2019 la Commissione Europea ha approvato l'uso degli inibitori PARP nel trattamento di mantenimento nei casi di tumore ovarico avanzato con mutazione in BRCA1 o 2. Ecco un esempio di come la ricerca di base in questo campo abbia permesso di sviluppare un'arma in più contro il cancro. Grazie! Grazie!